Buongiorno, ben trovati all'appuntamento Buongiorno, ben trovati all'appuntamento di mercoledì 14 novembre 2018 con Mattino 6, la rassegna stampa della nostra rete per la lettura dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola, partiamo come sempre, come di consueto con le prime pagine dei quotidiani, dei giornali abruzzesi, iniziamo con l'edizione di Pescara del Centro, il titolo di apertura riguarda la cronaca giudiziaria che ci porta in provincia, assenteismo, vedete il titolo, Sospesi sette dipendenti, l'inchiesta su provincia e ambiente, a Pescara tra gli indagati c'è anche il direttore. Andiamo in alto per parlare di sanità, i dati positivi della prevenzione nella nostra regione, morbillo in Abruzzo, la vaccinazione fra crollare le infezioni. E poi, nelle scuole 150 dottori in scienze motorie, sempre in Abruzzo e sempre nella nostra regione, verso il voto, si avvicina a grandi passi l'appuntamento del 10 febbraio con le elezioni regionali. Martino, esponente abruzzese di Forza Italia, dà lo stop definitivo agli alleati di centrodestra, si parla ovviamente della scelta del candidato del centrodestra appunto per le elezioni. Vediamo a centropagina la foto che riguarda lo sport, Marco Verratti è giocatore del Paris Saint Germain, della nazionale italiana, l'alcol una cavolata, ho chiesto subito scusa. Il centrocampista pescarese parla nel ritiro della nazionale di quello che è accaduto nei giorni scorsi, quando era stato fermato alla guida di un'auto e multato di 40 mila euro. Vediamo anche le notizie che poi troveremo all'interno del giornale, giornalisti manifestano per la libertà di stampa in tante città italiane, ieri flash mob anche a Pescara in Piazza Italia. Vediamo anche in basso poi la cronaca che ci porta invece a Francavilla al mare, coltello puntato alla gola del tabaccaio, due banditi lo aspettano davanti alla banca e gli rapinano, 13 mila euro. Vediamo nelle cronache la politica, Presutti, assessore, si occuperà di nuova Pescara e dunque Marco Presutti, il nuovo assessore del comune di Pescara, dopo le dimissioni di Giuliano Diodati, di cui assume le deleghe e si occuperà anche della nuova Pescara. Pescara allarme sicurezza, i negozianti in via Carducci dicono degrado totale, poi lo sport, Pescara Bond, più di 2 milioni dalla raccolta, obiettivo praticamente raggiunto. Andiamo a vedere la prima pagina del centro, edizione di Chieti-Lanciano-Vasto, il sindaco no a ricatti o mi dimetto, la crisi in comune a Chieti, di primio lancia l'appello ai ribelli, non fate fallire la città. E poi ancora Chieti alla tabeccheria Bascelli, festa grande e vince 200 mila euro, ora il vincitore dice estinguo il mutuo. Vediamo le cronache, la prima notizia riguarda Lanciano, ricorderete il colpo in villa, il capo della gang è a Re Bibbia, caos chiuso, è stato trasferito dal carcere di Lanciano. Per il questore di Chieti-Borzacchiello le indagini sono praticamente chiuse. Vediamo poi altre notizie, ancora Chieti, assalto al bus e due tifosi sotto accuse, poi gli alpini in coro, cantano la prima guerra. Vediamo la prima pagina di Teramo del centro, ferma anche la ricostruzione 2009, imprese senza soldi e Teramo convoca un consiglio straordinario sul sisma. Delitto di Giulianova, il giudice nega i domiciliari al Santore di Padre. E poi Teramo ancora, ex manicomio, ecco il progetto per il recupero, Pineto vigili 260 multe con l'apparecchio Street Control. E poi la cronaca, droga dal Peru alla vibrata, tre condanne, pene per 31 anni a due uomini e una donna che organizzavano il traffico di coca. Vediamo la prima pagina di L'Aquila, Vezzano sul Mona, sempre del centro, per ai sfruttati in 18 sotto accusa, rischiano il processo imprenditori e reclutatori di mano d'opera nei cantieri. E poi la protesta a Roma per lo spostamento del terminal bus da Tiburtina a Danagnina. I sindaci, Toninelli, il ministro, non ci ha voluto incontrare. Vediamo anche le altre notizie. Sentenza nella Marsica, abusi sessuali su un bambino condannato. E poi lutto nel mondo del calcio aquilano. Addio Bastida, storico dirigente dei Rosso Blu. E poi ancora Vezzano, mamma sitter, ecco l'aiuto per badare ai figli. E poi estorsione a scuola, bulli in arresto. Roccaraso ai domiciliari, due minorenni che taglieggiavano i compagni di classe. Vediamo la prima pagina del inserto Abruzzo del messaggero. Assenteismo, indagati via dal lavoro. Pescara facevano timbrare i colleghi il cartellino. Il GIP ne sospende 7 dall'impiego. In tutto 17 inquisiti della società, provincia e ambiente. Truffa, falso e peculato. Queste le accuse. E poi verso il voto, ieri conferenza stampa del vicepresidente vicario del Consiglio regionale Lucrezio Paolini che ha detto, mi ricandiderò solo con la candidatura di Giovanni Legnini. Dunque Lucrezio Paolini resta nel centro-sinistra. Vediamo anche le altre notizie. Castel di Sangro, arrestati studenti minorenni e storcevano soldi ai compagni di scuola. E poi abusi su minore, condannato padre di famiglia ad Avezzano. E poi ancora Tiburtina. Oggi si riunisce la Commissione Trasporti, prosegue la mobilitazione, come abbiamo visto anche qualche attimo fa, per il prossimo spostamento del terminal bus a Roma da Tiburtina ad Anagnina. Vediamo anche in basso un altro titolo. Ci porta Penne, Brioni, dipendenti con il fiato sospeso. In alto invece si parla di politica e di sport. Pescara, presutti il nuovo assessore nella giunta di Marco Alessandrini. Poi calcio Serie B e il Pescara. La vera rivelazione del campionato. Biancazzurri secondi in classifica prima della sosta che ci sarà nel prossimo turno. Secondi in classifica nonostante la sconfitta di Palermo. E poi Serie D, Notalesco Pineto. Derby ad alta quota per i play-off. Perché oggi torna il campionato di Serie D con il turno infrasettimanale. Tante le gare da seguire e che seguiremo con i tradizionali e canonici appuntamenti dei giorni in cui si scende in campo proprio per il campionato di Serie D. E dunque diretta stadio questo pomeriggio alle 14.30. E questa sera alle 19.30 l'Abruzzo del pallone. con Jacopo Forcella e Andrea Costantini proprio per commentare le gare del pomeriggio. Noi invece ci spostiamo sulla prima pagina del quotidiano La Città. Offesi vigili, consigliere condannato, ex amministratore rosetano di maggioranza, critico gli agenti che facevano le multe in piazza. E poi vedete a centro pagina una lanterna porta melatina. Teramo all'interno tutti i dettagli del progetto di recupero dell'ex manicomio. La politica, Zingaretti a Pineto per la scalata dei democratici. E poi Teramo, le opposizioni interrogano se stesse. E poi Morrodoro, operaio giuliese ustionato nel serbatoio di materie plastiche. Lasciamo i quotidiani abruzzesi con le relative prime pagine. Invece andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani e dei giornali nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera. Governo, schiaffo in Senato. Manovra, ecco la lettera inviata a Bruxelles. Salvini, tiriamo dritto. Schiaffo in Senato perché la maggioranza è stata battuta. È stata battuta in commissione sul condono per Ischia. Ira del Movimento 5 Stelle su De Falco e Nunes che pur appartenenti al Movimento 5 Stelle hanno votato contro. Vediamo poi Palermo, Haftar, tregua fino al voto. La Turchia lascia il summit a Palermo. Vedete, stretta di mano sulla Libia. Ma la pace è ancora un rebus. E poi Tim ribaltone al vertice. È stato rimosso Genish, che era l'amministratore delegato di Tim. Ora c'è l'ipotesi. Altavilla. Vediamo Repubblica. Sfida all'Unione Europea. I conti non cambiano. Ischia. Governo battuto. L'ira del Movimento 5 Stelle. E poi parliamo di Brexit perché c'è una bozza di accordo su visti e costi dell'uscita. Ora May, il primo ministro inglese, deve convincere i suoi. Poi vertice sulla Libia. Conte uno successo. Ma il summit finisce senza una vera intesa. Siamo a Libero. Salvini si offre spazzino di Roma. Cararaggi guarda e impara. Ruspe e Blindati sgomberano il centro, che ospita i migrati. Andiamo avanti. Il Fatto Cotidiano. Gasparri di Famo Saviano. Lega Fratelli d'Italia e PD lo salvano con l'immunità. E poi non solo TAV, i veri interessi dell'industria che marcia su Torino. Questo è l'altro titolo che riguarda l'ormai quasi ex capitale dell'auto. Vedete poi in basso, disegno di legge Genova, maggioranza sotto, bocciato il condono di Ischia. Siamo al messaggero nazionale, manovra l'Italia sfida, l'Unione Europea, condono a Ischia, governo KO. E poi andiamo in basso. Vertice di Palermo, la stretta di mano finale tra Serrai e Haftar. Ma abbiamo visto che non è stato raggiunto un vero e proprio accordo. Impegni sulla Libia, tra l'altro raggiunti, ma senza la presenza della Turchia. Vediamo un altro titolo che riguarda il calcio, la violenza nel mondo del calcio. Questo fatto accaduto nel Lazio. In ospedale, dopo il pestaggio, l'arbitro colpito a freddo, è giusto fermare le partite. Riccardo Bernardini racconta l'aggressione, l'intervento di governo e federazione italiana. Gioco calcio. Siamo al giornale. Anche il giornale finisce nella lista nera dei grillini. Il blog 5 Stelle lancia l'elenco della stampa nemica. Il mattino, Campania Max, inchiesta su rifiuti, decine di appalti sospetti, indaga l'antimafia. Caserta, blitz dal sindaco e poi con Donoische il governo K.O. Manovra invariata, sfida all'Unione Europea. Siamo al quotidiano La Verità, quanto terrorismo sulle pensioni. Tiro ad alzo zero, su quota 100. E poi sul nuovo panorama, la vita segreta di Roberto Saviano, il settimanale diretto da Berpietro e oggi in Edicola con la prima puntata dell'inchiesta di Giacomo Madori e Simone Di Meo. Sul ruolo scrittore, guru, è l'altra notizia che troviamo sulla prima pagina del quotidiano La Verità. Siamo al manifesto. Polizia etnica, ruspe e autoblindo a Roma sgomberato all'alba. Il Baobab, storico centro di accoglienza per migranti. E poi in alto vedete l'altro titolo che riguarda il condono. Primo stop al governo, maggioranza battuta sul decreto per Genova e Ischia. Vediamo anche la stampa di Torino. Manovra il governo sfida all'Unione Europea. Rischia un conto da 60 miliardi. E poi Libia, Palermo, solo una fragile intesa tra Haftar e Serrai. Il tempo, il branco di Desiree, La Fafranca, San Lorenzo, cadono le accuse di omicidio volontario e stupro di gruppo per due africani. Siamo al secolo.it, finalmente ruspa. Accogliamo con favore lo sgombero da parte della Questura, il Comitato Cittadini, Stazione Tiburtina, da tempo e sulle piede di guerra contro l'Associazione Baobab. Baobab, siamo al quotidiano di Genova, il secolo XIX, proprio il decreto Genova in primo piano scivola sul condono a Ischia, Bucci. Io mi muovo già, dice il commissario per la ricostruzione. Vediamo avvenire. Tregua per la Libia, stretta di mano tra Al Serrai e Haftar a Palermo. On un successo a gennaio. Conferenza a Tripoli. E poi vedete più in basso, Roma sfida a Bruxelles, governo sotto sul condono, sulla questione che riguarda Ischia. Avvenire era l'ultimo quotidiano, l'ultimo quotidiano dell'edicola nazionale che abbiamo analizzato, abbiamo preso in esame con i titoli della prima pagina. Torniamo al centro, alle vicende abruzzesi, si parla a pagina 2 della prevenzione, sempre fondamentale, prevenzione che dà segnali positivi nella nostra regione perché aumentano le vaccinazioni, incrollano in casi di morbillo nei primi nove mesi dell'anno, 48 diagnosi contro le 172 dello stesso periodo del 2017. E poi in basso vedete l'altra notizia di altro tenore che riguarda l'informazione, riguarda una volta tanto anche noi giornalisti. I giornalisti ieri in piazza, in tante città italiane, per difendere la libertà di stampa, a Pescara la manifestazione dei giornalisti abruzzesi dopo gli attacchi da parte di esponenti del Movimento 5 Stelle. Ieri eravamo presenti per seguire questo flash mob in Piazza Italia a Pescara, andiamo a vedere il servizio di Ludovica Pelliccioni. Uno scopo è quello di difendere la libertà di stampa, la libertà di opinione, la libertà di critica. Tutto ci saremmo aspettati meno di scendere in piazza con queste motivazioni. I giornalisti spesso sono scesi in piazza per difendere i loro diritti sindacali, ma non un principio generale come quello della libertà di critica, che è stato sancito dalla dichiarazione dei diritti universali dell'uomo nel 1789 e ribadita, guarda caso, in maniera molto forte nel 1799 dalla Repubblica Napoletana, una Repubblica molto vicina come territorio a qualche ministro della Repubblica italiana che oggi offende così pesantemente i giornalisti italiani. Siamo scesi in piazza e scenderemo ancora in piazza per difendere questo principio generale perché riteniamo che in questo momento gli attacchi alla stampa, gli attacchi all'informazione non siano sporadici ma facciano parte di un quadro, una temperie culturale, mettiamola così, una temperie politico molto pericolosa. Questa era l'intervista con il Presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta. Siamo a pagina 3, coinvolte le elementari abruzzesi in un progetto della Regione, a scuola 150 dottori in scienze motorie, vedete il titolo, la Regione Abruzzo investe un milione di euro per le lezioni di educazione fisica e alimentare, oltre 20 mila alunni. Politica, emergenza maltempo, l'accusa, sospiri, consigliere regionale di Forza Italia, dice che la Regione è distratta, non ha chiesto i risarcimenti. Poi andiamo a centropagina, parliamo di trasporti e rolandi, di tuo il primo segretario, Filt CGL, per Abruzzo e Molise. E poi, emergenza maltempo, la replica di Mazzocca, sospiri, falso, ho attivato tutte le procedure previste. In basso i sindaci, Toninelli, non ci ha voluto ricevere, si parla ancora, e se ne parlerà tanto anche nei prossimi giorni, della mobilitazione che è in atto nella nostra regione, dopo la decisione del Comune di Roma di spostare il terminal bus degli autobus che arrivano da Forillazio e soprattutto in questo caso dall'Abruzzo, da Tiburtina, da Nagnina. C'è stata la mobilitazione due giorni fa, manifestazione a Roma. Ma i sindaci dicono che Toninelli non ci ha voluto ricevere. Allora andiamo a vedere il servizio che fa un po' il punto della situazione su questa protesta. Non c'è stato l'incontro con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, pur sollecitato dagli amministratori abruzzesi e laziali, contrari allo spostamento del terminal bus da Tiburtina a Nagnina. La risposta alle doglianze, ieri espresse in una conferenza stampa tenutasi proprio davanti l'autostazione, è arrivata attraverso una nota dell'assessorato alla città e movimento di Roma Capitale. Voglio rassicurare i tanti pendolari che ogni giorno si recano a Roma per lavoro, ha scritto l'assessore capitolino Linda Meleo, garantendo di non voler rinunciare a Tiburtina. La scelta di Anagnina è provvisoria, continua la Meleo, ma sarà comunque occasione per creare un altro nodo di scambio strategico a Roma. Tibus, ricorda ancora l'assessorato, occupa gli attuali spazi dell'autostazione Tiburtina in modo abusivo da marzo del 2016 e l'amministrazione 5 Stelle ha deciso di non prorogare una convenzione, quella del 99, definita surreale. Tant'è, però, che i disagi di uno spostamento seppur temporaneo si riverseranno, come sempre, sugli utenti, con tempi di percorrenza per i pendolari che ogni giorno si muovono lungo la direttrice est-ovest, allungati almeno di 40 minuti. Sarà un incentivo a prendere l'auto, dice il presidente di TUA, Tullio Tonelli. Se aumentiamo i tempi di percorrenza di 40 minuti, 50 minuti, comincerà a non essere più conveniente. Tanti opteranno per la macchina. Anziché cercare di trasferire dal trasporto privato a quello pubblico, qui stiamo facendo la procedura inversa. Stiamo scoraggiando il trasporto pubblico, l'utilizzazione del trasporto pubblico, trasferendolo al trasporto privato. Come si fa a trasferire tutte le autolinee nella estrema periferia sud di Roma, aggravandone i costi e scoraggiando l'utenza? L'argomento, oltre che tecnico, è diventato terreno di scontro politico. Il candidato governatore di Civiche per l'Abruzzo, Fabrizio Di Stefano, invoca lo stop agli sversamenti dei rifiuti romani nelle discariche abruzzesi come contropartita. Gaetano Quagliarello, di idea, invece, parla di una provocazione della Giunta Raggi. L'Aggiunta regionale abruzzese, con il presidente Vicario Lolli, invece, chiede alla Giunta Capitolina che si ascolti la voce dei pendolari abruzzesi e quelle dei comitati civici romani, tutti contrari alla decisione presa. Ho incontrato qui i comitati di quartiere della Nagnina, parecchi comitati, i quali sono contrari a questo spostamento della Nagnina. Ho adesso sentito i comitati, invece, a Tiburtina, i quali chiedono loro che ci sia invece qui, con una riqualificazione di quest'area, naturalmente un potenziamento, mi sembra che ci sia un accordo molto largo. Francamente, io spero che la Giunta Capitolina voglia ascoltare la voce dei suoi cittadini e anche dei cittadini abruzzesi. Voglio sommessamente ricordare che un anno fa, quando il Comune di Roma si è trovato in grande difficoltà, non sapendo dove portare i propri rifiuti, la Regione Abruzzo si è offerta di ospitarli, non è stato facile. Torniamo a parlare di politica verso le regionali. Martino dà il secondo stop agli alleati, deputato di Forza Italia, dice che sono d'accordo con Pagano, rispettiamo fratelli d'Italia, ma alla fine bocceremo il loro candidato presidente. Andiamo a centropagina. Pubblica amministrazione Abruzzo Maglianera, Colletti, deputato del Movimento 5 Stelle, accusa il centrosinistra. E poi, ancora politica, il vicepresidente vicario del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lucrezio Paolini, lascia l'IDV, dice, mi ricandido con la candidatura di Giovanni Legnini, lancia la sua civica di centrosinistra. In basso parliamo di ZES, di zone economiche speciali. Da oggi la Regione ci riprova, vasto alle 10, primo di una serie di quattro incontri con Lolli. Andiamo a vedere anche la pagina di Pescara del centro, che riguarda l'assenteismo, sospesi sette dipendenti, indagini concluse per i 17 lavoratori di provincia e ambiente, fra i destinatari della misura interdittiva, anche il direttore. Andiamo a vedere la politica, sempre a Pescara, in giunta entra Presutti, assessore di Nuova Pescara, capogruppo PD, sostituito da Longhi, anche tutte le deleghe che aveva Giuliano Diodati, che si era dimesso da assessore, dopo i contrasti con la giunta. E restando ancora alla politica, Zingaretti a Pescara fa il pieno e carica il PD, sala consigliare Gremita, il candidato alla segreteria nazionale, abbraccia Legnini, insieme ce la possiamo fare. Allarme sicurezza, dopo la rapina ai fidanzati, i negozianti del centro di Pescara, dicono stagio del degrado via Carducci, allo sfascio completo. Andiamo a vedere la prossima pagina, falsi investimenti nelle pescarese, truffata dal promotore, sarà risarcita. Andiamo a vedere ancora, torniamo alla questione del trasferimento del sito bus da Roma Tiburtina, da Nagnine Pescaresi sarebbe un disastro spostare il terminal bus di Roma, ovviamente abbiamo sentito anche il presidente di Tua, ci sarebbe un aggravio dei costi, ma soprattutto ci vorrebbe molto più tempo a questo punto per raggiungere dall'Abruzzo la capitale. Cronaca, droga nascosta al terminal dei bus, la Guardia di Finanza scova e sequestra, la marijuana all'esterno della biglietteria. Diabete in provincia, siamo alla sanità, ne soffrono in 30.000, l'Abruzzo è la regione più colpita d'Italia, ma una persona su tre non sa di essere malata. E poi, parliamo anche di ambiente, vedete a fondo pagina, raccolti 10 kg di plastica in spiaggia, i 13 volontari di Lega Ambiente hanno rimosso anche 250 cicche di sigaretta. Ieri vi avevamo proposto il servizio nel corso del nostro Tg su questa iniziativa lodevole di Lega Ambiente. Siamo a Montesilvano, l'appello del sindaco Maragno, fiumi a rischio e sondazione, bisogna intervenire subito. E poi, Commissione Lavori Pubblici, 12 consiglieri sfiduciano il presidente. Mauro Orsini, su richiesta dei contestatari, il presidente del Consiglio Comunale di Pasquale, ha invitato l'esponente di Lega Montesilvano Montesilvano ad inserire la sfiducia nell'ordine del giorno della riunione di oggi. Siamo ancora a Montesilvano, palazzina di Via Lazio 61, torna l'emergenza abusivi. E poi, spoltore, il codice della strada venga applicato anche in Via Marche. Rapina sulla Nazionale Adriatica, siamo a Francavilla, coltello puntato alla gola del tabaccaio, colpo da 13 mila euro lunedì sera davanti a Banca Intesa San Paolo, autori due uomini in scooter, con il viso nascosto da Caschi. San Franco, siamo nella zona alta di Francavilla, paura per l'auto che va a fuoco, vicino la scuola. Ancora Francavilla, negozianti uniti per un centro più attraente, feste vicine, Nastasi, l'albero di Natale alla Sirena e Trenino di collegamento a Sant'Alfonso. Queste alcune delle iniziative. Siamo all'inchiesta della tragedia di Rigopiano, nuova perizia sul telefono di Gabriele, parla il fratello gemello del barista, già dalla mattina aveva allertato il coc di Penne per sollecitare lo sgombero del resort. E poi la crona che investito da un'auto a Penne, 44enne, finisce in ospedale. E poi i pizzaioli di Loreto Prutino, i fratelli di Carlo, aiutano gli orfani di Genova. E poi in basso, ancora Penne, solidarietà del Comune ai lavoratori del settore tessile. E poi invece a Popoli, in Val Pescara, liceo di Popoli, eccellenza abruzzese. Siamo a Chieti, crisi in comune, partono le trattative, vedete il titolo, ultima chiamata ai ribelli, niente ricatti, o mi dimetto, dice il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. E a Lanciano, scusate, sempre a Chieti, ma parlando della provincia, la Lega accusa scuole e strade, la provincia è immobile, lo dice Nicola Campitelli, esponente della Lega. Siamo ancora a Chieti, per parlare di una vincita, al Gratta e Vinci, vince 200 mila euro, così pago il mutuo, la fortuna bussa, la tabaccheria Bascelli, in piazza Matteotti, la gioia del vincitore, ora dico addio, alle rate, e cambio vita. Deserto il parcheggio a pagamento, al Via Lestrice e Brua a Megalò, nessuno paga per lasciare l'auto, gli addetti al lavoro, senza divisa. E poi ancora cronaca, a Chieti assalto al bus, del Chieti due denunciati, tifosi finiscono sotto accusa, per la contestazione del 7 ottobre scorso, nei guai per violenza privata. Siamo a Lanciano, l'assalto sciocca, la villa di quasi due mesi fa, capo della ganga Rebibbia, il caso è chiuso, il questore Borzacchiello, a giorni romeno, sarà trasferito in Abruzzo, ma continuano le indagini, su altri furti e rapine. E intanto a Lanciano, D'Agostino torna in Abruzzo, e va stese il nuovo commissario, proprio del commissariato di Lanciano, prende il posto di Lagrasta. Evasione fiscale assolto, l'imprenditore Maio Lanciano, IVA non pagata per oltre un milione di euro, saldato il debito del 2014. Con l'erario. Andiamo ancora avanti, siamo sempre in provincia di Chieti, donna ferita alla testa dal tubo caduto nella serra, tollo incidente mentre lavora insieme al marito, nella copertura di un vivaio, ricoverata a Pescara, dove è stata trasportata dall'elicottero del 118. E poi, Ortona, la piazza cambia nome, nessuna spesa per i residenti, da piazza Prebiscito, a piazza Canada, a Fossacesia, i proprietari dormono, e i ladri rubano, Fossacesi appunto furti in tre case, torna la paura in paese. Ancora Ortona, opposizioni all'attacco, la giunta dà in ritardo gli atti del Consiglio. Siamo a Teramo, imprese in difficoltà, ricostruzione è bloccata, anche quella del sisma 2009, allarme dell'ANIEM, per il 2016 avviati 25 cantieri su 865 pratiche di edilizia residenziale. In basso, il direttore del ZURS, ho meritato il premio, dal verto rivendica di aver messo sull'ufficio dal niente, e sui risultati dice, ho poco personale. Siamo a Giulianova, l'omicidio della pittrice, no ai domiciliari per Santoleri Senior, il giudice respinge la richiesta di scarcerazione, permangono i pericoli di reiterazione del reato e inquinamento delle prove. Cerimonie messe e veglia per l'urna di San Gabriele, venerdì e sabato, le due cerimonie si terranno a Colonnella, e poi la cronaca, Morrodoro per Raio 35enne, ustionato al Cordivari. Andiamo in basso, a Notaresco va a fuoco una discarica abusiva, l'allarme di un volontario Gadit, evita l'inquinamento ambientale. Ancora cronaca dalla provincia di Teramo, la nuova ciclabile Franancora, siamo ad Albadriatica, Di Matteo dice il comune, dicano alla variante. E poi Teramo, cocaina dal Perù, condanne per 31 anni. In basso Martinsicuro, via il progetto per il lungomare di Martinsicuro e Villarosa. Andiamo ancora avanti, siamo a Pineto, dove sono state riscontrate 260 infrazioni con la macchina che legge le targhe, primo bilancio del sistema street control. Ancora Pineto, mozione contro gli oggetti in plastica nelle mense. E a Silvi, invece venerdì il Consiglio Comunale sulle multa a semaforo, seduta convocata su richiesta delle minoranze. Siamo alla pagina dell'Aquila, cantieri della ricostruzione, c'è l'udienza, operai sfruttati, 18 verso il processo. E poi vediamo ancora, concorso truccato, processo alla del Principe, il comune, resta parte civile. E poi, bocciato ricorso contro sgambati, il Tar del Lazio conferma la legittimità della nomina fatta dal CSM. La politica, vedete in basso, Veltroni riapre domani la sede del PD, il partito è uno storico edificio di Via Paganica. Vogliamo che sia la casa della partecipazione. Siamo alla pagina della Marsica, abusò di un bambino condannato, il pedofilo chiamato a scontare 5 anni e 7 mesi. Ancora Avezzano, droga nell'auto, 2 nei guai. Celano, nuova stazione elettrica, intesa fra il comune, Eterna, è stata siglata la convenzione. In basso siamo ancora ad Avezzano, restiamo nella Marsica, mamma in prestito per badare i bimbi, Avezzano, Cimaroli, spolvera la banca del tempo, e spopola con Mamsiter, solidarietà tra le donne. Siamo a Arroccaraso, estorsione a scuola, due bulli in arresto, i ragazzi entrambi minorenni ai domiciliari minacciavano i loro compagni per farsi consegnare piccole somme di denaro. Sul Mona, Casini riorganizza gli uffici comunali, il sindaco dal via libera alla stabilizzazione dei quattro contratti a tempo determinato, altre tre assunzioni nel 2019. ZTL, definitivi permessi per i residenti, la Giunta vuole rivedere il numero dei passi rilasciati, in totale 2.200, di cui 1.200 destinati ai disabili. Siamo arrivati allo sport, ci possiamo fermare a questo punto per qualche istante, poi torneremo come sempre in studio per la seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6, avevamo letto, esaurito insieme le pagine del quotidiano il centro, siamo all'inserto Abruzzo del messaggero, partiamo da pagina 2, la politica con la regione alle urne, ieri conferenza stampa a Pescara, presso la sede del Consiglio regionale, del Vice Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lucrezio Paolini, che lascia ufficialmente l'IDV, e appoggia Legnini, e dunque resta nell'alveo del centro-sinistra, ho mantenuto il simbolo IDV, ma ora prendo un'altra strada, ieri la conferenza stampa, andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato. Il Vice Presidente Vicario del Consiglio regionale, Lucrezio Paolini, oggi dice ufficialmente addio all'IDV, che ha scelto una strada diversa, appoggiando il centro-destra, e comunque la scelta di Fabrizio Di Stefano, lei resta nell'alveo del centro-sinistra, e auspica la candidatura di Giovanni Legnini, come candidato Presidente del centro-sinistra, è così? Diciamo che la notizia fondamentale, è che io sono disposto ad una ricandidatura, soltanto a sostegno di un candidato che ha il nome e il cognome di Giovanni Legnini. A queste condizioni io sono assolutamente disposto ad una ricandidatura, quello che hanno fatto e faranno gli altri a sostegno di non so chi, oggi mi interessa relativamente, mi interessa l'idea e il progetto di portare soluzioni alla nostra regione. Ritengo che questo si possa fare con l'autorevolezza di Giovanni Legnini e per questo io mi voglio spendere cercando di trovare le condizioni per far nascere qualcosa di nuovo e superando quello che è stato detto anche da Giovanni Legnini, gli steccati ideologici e di partito e utilizzando le menti migliori della nostra regione che oggi ha bisogno di una nuova ripartenza e credo che questa nuova ripartenza possa essere sviluppata, perfezionata soltanto con Giovanni Legnini. In un bilanciamento delle esigenze e dei risultati il governo che ha cessato le sue funzioni ha realizzato tantissime cose e di pregio. Cambiare non significa bocciare, cambiare significa fare un passo oltre. Queste le dichiarazioni, questo è il servizio con le dichiarazioni di Lucrezio Paolini che dunque lascia l'IDV, resta nel centro-sinistra e auspica una candidatura come candidato presidente del centro-sinistra di Giovanni Legnini. Andiamo a vedere altre notizie sempre da pagina 2 del messaggero Miniti al Teatro Tosti solo immigrazione e niente segreteria PD e poi parla Zingaretti sala del consiglio gremita a Pescara per la visita in Abruzzo dell'attuale presidente della regione Lazio che si è candidato alla segreteria nazionale del PD Siamo a Pescara senteisti inchiodati dalle telecamere sospesi dal lavoro sette dipendenti di provincia ambiente avviso di conclusione delle indagini per altri dieci le accuse peculato truffa e falso e poi sigarette proibite al classico tre studenti multati dal NAS e poi due evasioni in tre giorni ancora cronaca arrestato dalla polizia e poi ex Montecatini l'indagine rimette in moto la bonifica andiamo a vedere la prossima pagina la politica siamo sempre a Pescara presutti in giunta sprint per nuova Pescara ieri la nomina del neo assessore al posto del dimissionario Diodati si occuperà anche della questione della nuova Pescara Caso Libra Toto ha sanato i debiti della società l'ex parlamentare replica alle accuse poi lutto in comune a Pescara e scomparsa a 91 anni la signora Norina Forte madre del capogruppo comunale di Forza Italia al comune di Pescara Marcello Antonelli ovviamente anche dalla nostra redazione le più sentite condoglianze al capogruppo di Forza Italia Marcello Antonelli andiamo in basso Jets and Fall stasera il via con la batteria di Sanchez a Pescara ci spostiamo in provincia siamo nell'area Vestina a Penne Brioni scade l'accordo anti licenziamenti a fine mese l'amministratore delegato Malverdi svelerà ai sindacati i programmi del gruppo per il 2019 dopo due anni di esodi e tagli di orari no alla Bolkstein le imprese balneari condannate a morte ieri se ne è parlato in una conferenza stampa vi avevamo proposto anzi lunedì perdon conferenza stampa e vi avevamo proposto dei servizi in merito nel corso dei nostri TG e poi i big del fumetto firmano il nuovo calendario della Polizia di Stato presentata l'edizione del 2019 e poi la cronaca un prestanome pescarese per la frode da 85 milioni l'inchiesta della guardia di finanza di Isernia che ha riguardato anche l'Abruzzo siamo a Montesilvano rischio allagamento per il saline appello alla regione per la pulizia e poi investito mentre attraversa grave un pedone a penne andiamo ancora avanti per vedere la prossima pagina che riguarda la cronaca dell'Aqui la sanità l'allarme dei medici questa ASL è la più a rischio la NAO aderirà allo sciopero nazionale del 23 intanto prepara un dossier con tutte le criticità ritorno al passato dopo dieci anni il PD rientra nella storica sede a inaugurare i locali restaurati in via Paganica sarà l'ex segretario Walter Veltroni e poi parliamo anche di esercito perché al nono reggimento degli Alpini Sandri succede a Marco Iovinelli siamo sempre all'Aquila l'indagine sugli operai sfruttati e malpagati imprenditori nei guai ci spostiamo alla seconda pagina dedicata alla cronaca dell'Aquila a Cristicchi con le maggio dolore e speranza il direttore del teatro stabile abruzzese presenta lo spettacolo inaugurale la passeggiata all'alba in Basilica qui la follia dice Cristicchi diventa poesia e intanto parte il primo festival di arte e musica sacra restiamo ancora all'Aquila Belvedere fuga dei residenti prime richieste di cambio alloggio per gli inquilini Ater e c'è il lutto poi in casa dell'Aquila a calcio del calcio aquilano addio a Gigi Bastida il tipografo di via Verdi proseguiamo siamo alla pagina di Avezzano e Sulmona partiamo dall'alta Val di Sangro dall'area sangrina bullismo arrestati due studenti Castel di Sangro estorcevano denaro ai compagni imponendo il silenzio con la minaccia di picchiarli se si fossero ribellati e poi Marsica Ascice e Coca un arresto e una denuncia vedete poi in basso il titolo che ci porta ancora ad Avezzano violenza sessuale sul ragazzino pesante condanna ci spostiamo a Sulmona palazzo dell'annunziata sorvegliato speciale e poi ancora Sulmona Ovidio torna allo show dopo il successo nazionale a Celano nasce una nuova megacentrale elettrica siglati ieri convenzione e protocollo d'intesa con la società Terna ad Avezzano sanità metano e telefoni servizi in tilt siamo alla pagina di Chieti del messaggero due nidi di infanzia ancora al palo tante famiglie sul piede di guerra il servizio affidato a Chieti Solidale la graduatoria per i 72 posti non c'è Di Paolo il sindaco e l'assessore farebbero bene a dare spiegazioni politica di primio sindaco stralcia la cessione della farmacia era l'argomento più scottante che rischiava di far saltare la fragile maggioranza cronaca lite in casa padre colpisce il figlio e gli fa saltare i denti e poi parcheggio a pagamento da Megalò la partenza e fiacca ci spostiamo la pagina della provincia di Chieti Martin il capo delle bestie è tornato il leader della gang che il 23 settembre ha messo a segno la rapina nella villa dei coniugi Martelli è sbarcato a Fiumicino a Lanciano assolto Guglielmo Maio ha pagato tutto al fisco ancora Lanciano D'Agostino nuovo dirigente del commissariato Frentano sempre Lanciano il corso allarga l'isola pedonale e cambia la viabilità ci spostiamo a San Salvo la cronaca coppia di anziani scippata e strattonata alla fermata del bus ad Ortona niente confronto ai diritti minoranza contro la giunta comunale ci spostiamo a Teramo dal comune una spallata alla torre dell'università perplessità in consiglio comunale sul progetto della cittadella culturale con il faro il sindaco Dalberto dice ogni iniziativa urbanistica va esaminata in commissione ed in aula i vigili urbani sono pochi Dalberto lancia l'allarme produzione del Marucino la storia del melodramma con Mirabella in basso invece la cronaca giudiziaria cocaina dal Perù condanne per oltre 30 anni ancora cronaca operaio travolto delle macerie sotto processo il capo cantiere ci spostiamo a Roseto campo negato ai ragazzi disabili nessuna risposta dal comune di Roseto all'associazione oltre che promuove interventi a favore di persone diversamente abili vediamo un'altra notizia il corpo di Tommaso sarà cremato a Tenerife a terra oggi con tre giorni di ritardo per problemi burocratici a Puerto della Cruz a Tenerife Tonino Caralla il papà di Tommaso il 39enne Teramano che il 6 novembre stando alle indagini svolte dalla polizia iberica si è tolto la vita buttandosi dal suo appartamento il padre e la sorella Giulia hanno deciso di far cremare il corpo di Tommaso nell'isola dove aveva deciso di vivere siamo a Morrodoro operaio 35enne di Giulianova ustionato da una fiammata ancora cronaca furto nella notte all'acquedotto rubati a Giulianova decespugliatori smegliatrici e trapani l'evento di Colonnella parliamo dell'urna di San Gabriele della Dolorata venerdì e sabato sarà esposta proprio nel palazzetto dello sport di Colonnella siamo ancora in Val Vibrata in questo caso ad Alba Adriatica guasti alle condotte Ruzzoreti diffidato siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a leggere insieme le pagine interne del quotidiano La Città lo facciamo partendo dalla cronaca regionale sempre dalla vicenda dello spostamento del terminal bus a Roma da Tiburtina al quartiere Anagnina Toninelli da ancora buca ai sindaci abruzzesi caro pedaggio e sicurezza i primi cittadini non vengono ricevuti appendono le fasce davanti al ministero e poi flash mob a Pescara associazioni cittadini e istituzioni al fianco dei giornalisti abruzzesi nella protesta di ieri e poi la rapina in villa Lanciano è stradato il sesto componente della banda siamo a Teramo ex manicomio una torre lanterna sarà il simbolo della rinascita e poi gran gesto d'amore per la città di Teramo il rettore merito dell'università teramana Luciano D'Amico svela che proprio qui sarebbe partita la cabinovia andiamo ancora avanti siamo a Teramo le opposizioni interagono se stesse i gruppi di minoranza chiedono conto alla maggioranza ad Alberto dei problemi lasciati in eredità i lavori cantiere stop and go per la torre del Duomo e poi ancora ricostruzione la maggioranza d'Alberto alza la voce contro le lungaggini burocratiche andiamo a vedere un'altra pagina ecco la macchina per reimparare a camminare con il contributo di fondazione Tercas è stato inaugurato lo speciale tapirulan riabilitativo al centro AF Anfas di Sant'Atto vedete anche le foto dell'inaugurazione ancora sanità salute di Adei in 33 farmacie sarà possibile il test gratuito della glicemia Veronesi a Teramo per la ricerca domenica Roseto il pranzo per la raccolta fondi per sostenere un ricercatore sarà presente proprio Paolo Veronesi provincia venerdì primo consiglio provinciale con la diciamo la prima uscita ufficiale del neopresidente della provincia di Teramo Diego di Bonaventura ancora politica speca segretario del PD in Peccotere fino al 23 novembre il consigliere comunale verrà programmato all'hotel Abruzzi con un discorso programmatico parliamo di strade arrivano i fondi per le frane di 5 anni fa sono 5 comuni teramani finanziati dalla regione per l'ondata di maltempo di fine 2013 e poi Castellalto indagine interna del comune per l'inchiesta sui rifiuti avviata dal sindaco Vincenzo Di Marco al momento sono due gli indagati andiamo a pagina 15 la cronaca giudiziaria Maxi condanne per la cocaina dal Perù l'inchiesta è nata con l'arresto di un civitellese trovato con la droga in aeroporto e intanto sulla drammatica vicenda di Denis Cavatassi la senatrice Aquilane Abruzzese Pezzopane chiede l'intervento del governo per aiutare il nostro corregionale detenuto in Thailandia nel carcere di massima sicurezza di Nacon andiamo ancora avanti andiamo a Tortoreto restyling del lungomare entro la prossima estate il comune ha affidato l'incarico per il progetto definitivo sul piatto ci sono 600 mila euro e poi l'urna di San Gabriele abbiamo visto anche prima la notizia dalle pagine del centro del messaggero sarà esposta per due giorni a Colonnella proseguiamo siamo alla pagina di Mosciano e di Giulianova la cronaca ci porta Giulianova operaio giuliese ustionato mentre lavora al serbatoio di polietilene e poi Mosciano Galiffi difende le sue politiche industriali ancora Mosciano allarme per la senza tetto di Selva Piana la donna dorme su una panchina e vaga di notte lungo la statale 80 tornando a Giulianova Arboretti chiede certezze sui fondi per le scuole il gruppo del cittadino governante presenta sei priorità al commissario comunale ancora Giulianova a Lido il progetto paride funziona ma non del tutto il comitato di quartiere scrive una lettera per la scarsa illuminazione siamo alla pagina di Roseto Pineto Atri e Silvi ex consigliere comunale condannato per le offese alla polizia municipale Filiberto di Giuseppe aveva criticato i vigili che facevano multe in piazza consiglio comunale di Roseto mozione condivisa per il recupero dell'arena quattro palme da Roseto andiamo a Pineto vedete in basso la notizia che riguarda il sistema dello street control in dotazione alla polizia municipale beccate 260 auto senza assicurazione o revisione Zincaretti a Pineto siamo alla politica riportiamo al centro equità e giustizia il candidato alla segreteria PD al social market incontra il mondo del volontariato e i cittadini parliamo ancora di ambiente in questo caso spostandoci a Notaresco le Gadit lasciano la sede di Castellalto e si trasferiscono a Notaresco ieri pomeriggio il taglio del nastro all'interno dell'ex consultorio comunale alla presenza degli amministratori locali la pagina della cultura economia civile futuro della società ripensare il sistema nell'ottica del bene comune questa è la proposta in pillole di Alessandra Smerilli siamo arrivati così alle pagine dello sport in questa ultimissima parte di mattino 6 partiamo con iniziamo con le prime pagine dei tre quotidiani abruzzesi la gazzetta dello sport Marotta Inter vedete il titolo a tutta pagina c'è il sì la firma del contratto triennale entro tre settimane quando il neopresidente tornerà dalla Cina dove ha condiviso la scelta con il padre Mercato il primo duello con la Juventus sarà su Tonali e poi Milan Pipita due turni Salvini durissimo meritava di più Juventus Cristiano Ronaldo a Torino e tutto Juve allenamento e famiglia e poi panchine roventi in Serie A il Chievo sceglie di Carlo Ventura ecco la verità ad Udine Nicola e il nuovo allenatore ha firmato fino al 2020 e sui drammatici fatti accaduti nel Lazio con l'aggressione ad un arbitro nel corso di una partita di un torneo dilettanti c'è stato un incontro a Roma è stata anche l'occasione per parlare della questione Coni Giorgetti tira dritto il sottosegretario dice l'impianto della riforma non cambia siamo al Corriere dello Sport Inter su Elenio Herrera sta per Elenio Herrera ma è un altro Herrera che sta per arrivare a Milano ovviamente è Hector Herrera centrocampista in fuga dal porto Spalletti lo aspetta piace alla Roma e c'è ovviamente il ricordo di Elenio Herrera che ovviamente tutti sanno ha fatto la storia del calcio nerazzurro Juventus spunta Vidal sogno Pogba Napoli ecco il progetto Cavani Roma Tonali Monchi accelera sceneggiate Iguain due turni disqualifica e poi in basso vedete il Chievo sceglie di Carlo Nicola guiderà l'Udinese e poi la vicenda della violenza sugli arbitri nel Lazio inaspriremo le pene lo hanno detto in un vertice al Viminale il presidente degli interni Salvini il presidente della FIGC Gravina e anche era presente il presidente nazionale dell'AIA Marcello Nicchi chiudiamo per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali con tutto sport Juve Tonali Cellino vi dico tutto il gioiellino appena entrato nella nazionale di Mancini è diventato uno degli obiettivi principali della Juventus andiamo a vedere le pagine dello sport dai quotidiani abruzzesi il pescarese nazionale e ovviamente Marco Verratti che parla di quanto accaduto qualche giorno fa a Parigi quando è stato fermato dalla polizia stradale ed è stato multato ho sbagliato ma mi rifarò dobbiamo vincere parlando della gara con il Portogallo per chiudere il girone al primo posto vedete poi in basso Iguain la lega più dura del giudice due turni all'argentino ma Salvini e Maroni tuonano indegno e poi il balzer delle panchine continuano a saltare panchine in serie A dopo le dimissioni di Ventura il Chievo sarà guidato da Mimmo Di Carlo ad Udine arriva Nicola e Ventura dopo le polemiche delle ultime ore dice lascio due anni di stipendio parliamo ancora della National League Italia l'Italia per qualificarsi deve vincere e sperare ecco le varie combinazioni di risultati che andrebbero bene agli azzurri per chiudere al primo posto vediamo un altro paio di notizie in basso Allegri ed Ambra via preparativi per le nozze di giugno 2019 e poi la moglie Schumacher non si arrende la fiducia della signora Corinna la moglie dell'ex grande pilota di Formula 1 del Ferrari Schumacher segnali di speranza a quasi i 5 anni ricorderete dal drammatico incidente accaduto in Francia siamo alla serie B al Pescara Pescara Bond la raccolta supera 2 milioni di euro il presidente Sebastiani dice sono contento tante persone credono in noi questa operazione darà un bel contributo alla crescita della società sulla squadra il presidente dice la sconfitta di Palermo nessun dramma abbiamo giocato bene e oggi riprendono gli allenamenti assenti i nazionali ovvero Memushai che è impegnato con la nazionale albanese Melegoni ed Antonucci vediamo poi in basso stasera Monachello e Marras a Cupello per il nuovo club del Pescara domani sera invece ci sarà la festa del club biancazzurro di Pescara quelli del Delfino con la presenza di Brugman Elizalde e Nando del Sole andiamo ancora avanti serie C parliamo del Teramo decisivo per caso Teramo si coccole il bomber Barbuti doveva restare al Gavorrano è diventato una pedina preziosa dare il massimo e un dovere nei confronti di società e tifosi ha detto Barbuti parliamo invece di ora di eccellenza Ronci gode lo spoltore vola con i giovani l'altra capolista di eccellenza Abruzzo insieme al Chieti Capristrello guarda invece al mercato per rinforzarsi Fossacesia contro Lanciano altro che 500 tifosi solo 200 paganti polemica in promozione il club frentano costretto a giocare a vasto la gara con i rossoneri per motivi di ordine pubblico ma l'esodo non c'è stato oltre al danno dicono i dirigenti frentani anche la beffa siamo al campionato di serie D il turno infrasettimanale vastese punta sull'effetto Aragona oggi è domenica in casa per risalire la china l'avezzano fa turn over per tornare al successo Pineto ci ama addio al posto di fortunato nel derby di Notaresco dove il tecnico Cudini tecnico del Notaresco prepara alcune novità per il Francavilla salto al Matelica con Paravati Giulianova alla riscossa Fazzini a destra Torelli a centro campo ma vediamo il quadro completo delle gare che si giocheranno oggi alle 14.30 Vezzano Forlì Castelfidardo Recanatese Matelica Francavilla Monte Giorgio Isernia Olimpia Agnonese Sant'Arcangelo Cesena Savignanese Real Giulianova Iesina Notaresco Pineto San Maurese San Giustese Bastese Città di Campobasso andiamo a vedere la pagina che riguarda il basket del centro Personi e Roseto sulla buona strada la guardia ora la difesa funziona presto torneremo a vincere vediamo le pagine dello sport del messaggero Pescara secondo la vera sorpresa secondo gli addetti ai lavori c'è comunque fiducia e ottimismo in vista della ripresa del campionato dopo la sosta di domenica il 25 novembre il Pescara ospiterà Lascoli al stadio Adriatico calcio a 5 ecco e sapone oggi il debutto di fuoco contro il Cairat serie C Barbuti Teramo gol per la salvezza siamo alla pagina della seconda pagina dello sport del messaggero la serie D abbiamo visto il quadro completo delle gare di oggi davvero tanti gli appuntamenti in programma con Vastese Campobasso il derby notaresco Pineto Lavezzano che gioca con il Forlì Real Giulianova che ospita le Aiesina Francavilla di scena a Matelica chiudiamo con la pagina dello sport del quotidiano la città un punto su 6 il diavolo ora deve ripartire piccola frenata dopo una striscia di vittorie e Barbuti in gol domenica quella rete l'ho voluta serie D che torna in campo oggi derby al Savini tra Notaresco e Pineto Giulianova in casa abbiamo visto il quadro completo delle partite e siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi del 14 novembre con Mattino 6 che tornerà domani come sempre puntuale alle 8 io ringrazio ovviamente tutti voi per averci seguito ringrazio Claudio Di Giacomo in regia vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione della nostra rete come sempre alle 14 per la prima edizione del TG6 TG6 che poi andrà in onda anche alle 19 alle 23 ma quella di oggi sarà una giornata dedicata al calcio come abbiamo visto con il campionato di serie D allora sono confermati i nostri appuntamenti in diretta dalle 14 e 30 con diretta stadio per seguire proprio le gare delle abruzzesi nel campionato di serie D e questa sera alle 19 e 30 l'Abruzzo del pallone per vedere tutti i filmati sulle partite di oggi è davvero tutto grazie per averci seguito e buona giornata grazie a tutti i nostri appuntamenti a tutti i nostri appuntamenti a tutti i nostri appuntamenti grazie a tutti i nostri appuntamenti a tutti i nostri appuntamenti Grazie a tutti.